Quando scopri di avere un cancro ti senti senza punti di riferimento, ma se attorno a te hai una squadra che ti cura e che ti aiuta in tutti i passaggi, anche quelli burocratici, il percorso diventa meno difficile. Tutto questo è il CAS, Centro Accoglienza e Servizi. La diagnosi di tumore viene paragonata a uno tsunami, cioè uno stravolgimento della vita sociale, psicologica e anche economica del paziente e della sua famiglia. Questo ufficio ha la funzione proprio di accogliere il paziente e guidarlo all'interno del suo percorso diagnostico-terapeutico. Dai campanelli d'allarme individuati dal medico di base, passando attraverso gli esami e gli accertamenti, il caso di ogni paziente viene analizzato dal GIC, Gruppo Interdisciplinare Cure, un team di specialisti che individua il percorso più rapido e adeguato. Il paziente con quella patologia viene visto a 360 gradi da tutti gli specialisti, compresa anche l'area infermieristica e l'area anche assistenziale che è essenziale per la presa in carico di un paziente. Nell'ambito di un percorso che è condiviso nei protocolli diagnostico-terapeutici che sono stati realizzati dalle aziende e anche interaziendali per determinate patologie. In provincia di Cuneo le nuove diagnosi di tumore sono 4.000 all'anno, 2.000 i decessi. Di qui la campagna informativa sul CAS che sarà presentata al pubblico il 7 ottobre a Cuneo e il 21 d'Alba. I nostri pazienti in qualsiasi luogo, siano residenti o qualsiasi punto di accesso sanitario riceveranno la stessa qualità di cura, la stessa tempistica nella cura, non ci sarà bisogno di andare loro a cercare il migliore specialista. Questo anche per il presupposto scientifico che dei volumi minimi elevati di trattamento per patologia garantiscono degli outcome di salute migliori, quindi delle probabilità migliori di guarigione.